La Tecnis sospende i lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario a Palermo in attesa che si concluda la fase di valutazione del Ministro per la vendita del ramo d'azienda. E Ferrovie, che definisce l'interruzione inaccettabile, le invia una diffida ordinando di riprendere i lavori perché le vicende legate alle procedure di vendita non possono legittimare l'appaltatore a decidere se e quali lavori sospendere o portare avanti. La Tecnis in amministrazione straordinaria ha raccolto le offerte avanzate per l'acquisto dei vari rami dell'azienda e ha individuato quella che potrebbe rilevare il ramo d'azienda costruzioni che include pure il cantiere di Palermo. Il commissario straordinario Saverio Ruperto ha inviato tutto al Ministero e attende l'aggiudicazione provvisoria. Nell'attesa ha comunicato a Italfer lo stop degli operai. Il comune però non ci sta e ribatte. Governo del cambiamento o governo del cambianiente ma non dovevano risolvere tutto in una settimana, dovevano bloccare le trivelle in Puglie, le hanno autorizzate, dovevano sbloccare i cantieri a Palermo e li tengono fermi. Lo scrive il sindaco Lulio Corlando sui social commentando la decisione della Tecnis di interrompere i lavori in attesa della valutazione del ministro dello sviluppo economico. Tutto questo è inaccettabile, scrive ancora il primo cittadino, e non è più possibile che questa opera, che è certamente utile ed importante per la mobilità in città, continui a restare un'eterna incompiuta. Anche se è nata male sotto l'aggiunta cammarata, non possiamo lasciare che finisca male. Mi auguro che il ministro Di Maio si muova, quantomeno per rispettare quanto promesso dei suoi rappresentanti locali, circa il fatto che il Movimento 5 Stelle, una volta il governo nazionale, avrebbe accelerato i cantieri più importanti per la nostra città.